buongiorno a tutti fanciulli guerra nel paese dei balocchi all'immessa a disposizione da stella che ringrazio dove ci siamo ritrovati un po di gente del bar io vi avrei fatto anche vedere che belli che eravamo attaccare tutti insieme ma è partito bestemmione di rogale abbiamo cancellato tutto e le meraviglie del matrimonio comunque ci siamo trovati un po di gente del bar chi col primo profilo chi col secondo il terzo per cui c'è gente con dei nomi assolutamente impronunciabile tipo lui lei loro io i nomi non me li ricordo ovviamente non li nomino un po perché qualcuno non saprei dirvi chi è nel senso lo so chi è in chat ma non so chi è nel game e un po perché sicuramente mi dimentico dei nomi e questo vabbè piccoli dettagli strategia di guerra è zero non abbiamo strategia può darsi che ci asfaltino i nemici però qua passiamo dal livello 70 a livello 10 che è una meraviglia 10 12 vabbè vediamo come va e tanto i miei attacchi faranno cagare come al solito quindi ora vediamo 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 appena ho un bersaglio a disposizione mi ci butto allora ragazzuoli ci prendiamo i nemici così a caso e speriamo di non far figure di merda cosa vi devo dire tanto ormai penso di non avere neanche più una reputazione come giocatrice visto le ultime guerre che sto facendo dopo devo farvi vedere chi sta attaccando con noi non ci prendiamo così non ci prendiamo così un beccherai clarissa subito immagino poi vediamo di perdere la prima che così facciamo subito delle figure di merda clamorose allora ci danno fastidio i corvetti ci danno fastidio no mi da fastidio qua la signorina rotenmeyer frigida come la chiama skylar si carica si carica si carica si carica si caricano tutti anche pugno fortissimo è made in skylar se non vado errato fantastico e si beh facciamo che non mi ammazzi mi curo prima come cavolo si è messo il board adesso si aumenta la vita possiamo riuscire a non perderla questa zia o ti fa proprio schifo rigida almeno è morta ma vorrei curarmi io se non fa schifo ero se no al primo che parte sono morta vedi baldur sta fermo lì che mi devo curare si ovvero mi facciamo entrare qua il blu eh che palle si ricarica di nuovo si continua no no preferisco andare di qua lasciar perdere baldur se no non usciamo qua da sta cosa eh però c'è zio però la perdo la perdo guardate che la perdo mamma mia che fastidio che fastidio eh mi metto tre blu in fila boh ma magari mi curo anche non so adesso vediamo ho giocato malissimo non ci credo sono andata a prendermi più più stronzo proprio nooo mi è morto anche il curatore figura di merda fantastico vai è il primo dell'allianza di hogwarts ah dovevo lanciare gli incantesimi ecco perché prendiamone un altro cioè boh non riesco a capire neanche gli obiettivi avversari e sappiate che sto andando con una quasi 4.300 contro questo 3.900 io con delle truppe pietose però che devo fare minimo perdo anche questo ormai non so non so come gestirli non riesco a capire gli avversari è una roba pazzesca non riesco a capire neanche le mie borde ma questo è un altro discorso 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 facciamo così vediamo cosa scende eeeh no così eeeh no così allora anzitutto questa roba qui te la togliamo vediamo se muore alberi che aiii la ho fatto ho fatto poffete qualcuno di là non mi sono neanche accorta e adesso mi farò uccidere tutta la squadra da cipria perché ci starebbe anche bene volendo vedere non sta nemmeno pensando al board devo dire che non è una bella cosa non è una bella cosa da dire però vabbè erano 3009 si poteva fare eh si poteva fare riesco a non fare se è one shot neanche qui eh ma allora una piccola nota semiseria adesso io non vi posso far leggere le chat perché cioè oddio potrei anche ve le stiamo scrivendo una marea di puttanate che metà bastano però eh il gioco è bello va preso seriamente bisogna impegnarsi le guerre titani le strategie come si crescono gli eroi la base pa 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 tutte queste belle cose però prendetevelo un momento in alleanza per farvi due risate per fare delle guerre stupide per fare qualcuno guardate qui che c'è per fare qualche qualche cavolata davvero che ci sta ci sta ogni tanto no se no sempre tutti seri tutti no 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 assolutamente io sto facendo una squadra non mi ricordo chi sono andata a prendermi e quindi andiamo a vedere e anzo che ce ne frega niente il viola legge ho la mia obacan attenzione ragazzi ho obacan fermi tutti mettiamo obacan centrale non mi ricordavo neanche di aver maxato il viola obacan centrale e mettiamo dove l'altro rigard ce l'ho io un altro devo fare i costumi a rigard devo cominciarli le truppe le truppe sono le truppe sono sbagliate perché obacan cavolo non mi ricordo obacan sei media lenta non ci sono abituata è rapida rapida per cui a lei non interessa la truppa mana allora obacan no oddio ce la posso fare non sono abituata con il viola in c'è verso obacan si prende alla truppa critica e combattiamo non so che squadra ho fatto direi li abbiamo anche già ripresi mi sa gli avversari acciotessere stupeficium e muori Aigir oh bravo cazzo ti ho lanciato addosso il mondo e chi facciamo andiamo su di lui sectum sempre ma tutti li so così partono i blu ok reducto vedete che imbecille che sono io non so non so se sono peggio io o voi che guardate i miei video eh attenzione attenzione no vabbè dovete suggerirmi gli altri incantesimi di yogurt di Harry Potter non me li ricordo aspetta quello del naso che sanguinava com'era? epismendo epismenda epis qualcosa e schiantati che bello sto usando viola che emozione vingardium leviosa ah ah funziona però e fra poco ti tocca mi dispiace ma fra poco c'è proprio lo teniamo come dulcis in fondo eh però magari devo caricarmi per tenerlo come dulcis in fondo eh ok quando è fatta tu eh non si è ancora caricato dai se lo so che mi devo caricare i miei franciulli eee a vada che dovrà che stupida che sono comunque li abbiamo già ripresi perché noi abbiamo 71 attacchi siamo a 3046 loro sono a 2007 e ne hanno 79 79 70 hanno 9 attacchi in più ma bah andiamo volevo farvi vedere chi c'era qui sono gnappo non Skylar che ha raggiunto il livello ve lo faccio vedere bellissimo il livello 12 giusto per fare questa guerra con il secondo profilo è fantastica sta cosa adesso cerchiamo un altro obiettivo e facciamoci male io vi giuro che sto facendo le squadre più a caso del solito ma proprio ah potevo prendermi quello qui due verdi pensate che bello ehm no non arrivo a fare il diamante se faccio così però faccio lo stesso perché comunque mi viene una bella moscina bene ho finito il mio colore ho finito di giocare vai stupida stupida no però ridendo e scherzando sto giocando male sul serio eh adesso ora andiamo di darci una regolata se no non se ne esce mi ammazzerà qualcuno ovviamente merlino l'ho anche emblemato io merlino figuriamoci se riesco a usarlo una volta non dico tanto una che sia una qua posso fare un diamante blu ma muoio prima se vado avanti così ma qualcuno riusciamo ad ammazzarlo zio siamo qui farci le pugnette Melinti ho scaricato il mondo vorrai morire no la perdo fantasticissima sta cosa e non mi curo neanche sì però basta cioè fatemi capire vediamo se muore col diamantone no pensavo il diamante scusate ho contato male i pezzi niente muoio bellissimo neanche questo tiro giù ma che tristezza io devo smettere di pubblicare i video ho deciso devo smettere mi perdo via in queste stronzate chiacchiero chiacchiero non guardo il borde muoio male sì non lo so io veramente sono a parte ha delle truppe bellissime questo qui è truppa 1 ma riesco a perdere anche questa io sono fiduciosa no sono troppo su di giri oggi per mettermi a pensare le mosse però quando ti regalano un board così se la perdi poi devi disinstallare il gioco no quindi adesso l'ho detto faccio faccio tu devi stare fermino e morire guarda che bella la combo su magni non mi ricordo mai gli aiuti sul campo quando ci sono le frecciazze è sempre un po' un bagno di sangue e beh andiamo da sartana vieni leoni che ti aspetto su sono ancora la squadra di gialli da usare la squadra di gialli guardalo qui il diamantino è andata andiamo di ricoprire forse ho ancora un tiro sì ne ho ancora uno vediamo un po' che fare allora ultimo attacco stupidissimo perché a questo punto ci sta a fare anche l'attacco stupido monogialla contro di lui non ho un dispeller se parte Elena sono morta che cosa meravigliosa oh attenzione attenzione ciao Richard rigard ma sta sbagliando tutto e ci sta per salutare anche l'orsetta polare andiamo qua da lei via ciao è stato un piacere andiamo andiamo da pugno fortissimo andiamo no tu che hai anche l'abbassamento sto cercando di giocare seriamente ma non mi riesce oggi davvero non mi riesce e freccezze e facciamo che ci curiamo un po' però e uno è andato uno va di là c'è anche così e adesso aspettiamo pugno fottissimo guarda lo pugno fottissimo ringraziamo Skylar per aver coniato il termine pugno fortissimo io ho finito penso anche di aver fatto cagare fra le altre cose andiamo a vedere negli attaccanti Reed dovrebbe essere Luigi Francesco Skylar Dark e non gli so i nomi veri Aberstea Ruggaldor non lo conosco vagamente Guido Sbronzino Poli la Grete la Straga lo Super Angel Shanda Ronin Olaf che è mia Atos che è Stella Pleiko Boss che è Despacito Deluxe che è Deluxe che è questa roba assolutamente impronunciabile è Lale e poi c'è Gnappo Bucky non mi ricordo neanche Cannolo Man io scusatemi me ne sono già ricordati troppi 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 ma per essere stata una guerra giocata così siamo stati pure fin troppo bravi devo dire adesso vediamo come siamo messi 39 attacchi noi a 4.004 e 63 loro ma ho dei grossi dubbi che ci vengono a prendere non lo so vediamo questo è quanto ogni tanto fatevele le guerre tanto per divertirvi chi se ne frega dei punteggi chi se ne frega se si fa 0 se si fa 1 2 risate se no davvero diventa un lavoro e non un gioco e niente buona giornata fanciulli che si fa 1 Grazie.